ATLOS parte 2! Quindi, review, abbiamo fatto due delle quattro parti di Outlaws, però c'è da farle altre due parti delle quattro parti, non c'è arte, ne parte! Se ne pensi, intanto se ne pensi di questa tendenza della Wizards a fare 47 simboli e pezzi di espansione per ogni espansione? Che ci fosse la cassaforte era gazzino, perché appunto la cosa veniva aperta, però potrei dire che la Wizards dovrebbe un po' rallentare, perché non ci si sta più dietro! Pochino, che dici? Non lo so! Sono abbastanza d'accordo! Il discorso e il rischio di saturare il mercato, l'abbiamo visto che l'ha fatto la Marvel, e se la gente si sdubbia, paradossalmente vendono meno, non di più! Vediamo, intanto è una tantum, sappiamo, quindi tranquilli, lo chiarisco per tutti, questa è l'ultima volta che c'è una roba del genere, perché Big Score doveva essere come Aftermath, si sono resi conto e Aftermath è stata una cazzata, allora l'hanno messo insieme, non esisterà più un altro discorso! Maffi, cosa ne pensi? Esattamente! Allora, iniziamo! Allora, quindi ricordiamo, perché stiamo guardando queste carte? Perché queste carte per noi, a noi, noi, interessa che vanno in Historic, in Timeless, ok? Ok? E qualcosa, se non sbaglio, è una ristampa, è così che va anche in Alchemy, quindi principalmente parleremo di Historic e Timeless. Abrupt Decay, perché non la conosce domani, è istantaneo, non può essere counterata, distrugge, ah, è anche qualcosa di Explorersi, distrugge un permanente non terra che costa 3 o meno. Allora, tutti noi, è una vita che si dice, Decay, dateci Decay, per favore, dateci a Blue Decay. Ce l'hanno dato, il problema è che non si gioca più. E ho, e ho. E nei Modern, nei Pioneer, non si gioca più, ci gioca solo Inside di Amalia. Quindi, alla fine, tutto sto spostamento di Decay, in Historic, alla fine, secondo me, non lo farà. Né in Historic, né in Timeless. È una carta che, se puoi metterla, la giochi. Giustamente, l'hanno data adesso, che è depotenziata e non fega più un cazzo a nessuno, mi sembra giusto. La gente si fa vendere il perdi primo. Forse, è, appunto, ragazzi, si gioca in Explorer, perché in Pioneer si gioca tipo 2x Inside di Amalia. Fine. Non si gioca in nessun altro mazzo, in Modern, niente. Prima era 4x in tutti i mazzi del verde e col nero. Ora c'è anche di meglio. Vabbè, bisogna capire quanto deve essere incounterabile, perché, ricordiamoci, entra di prepotenza anche Mana Drain. Quindi, quant'è che sarà necessario avere roba incounterabile? Perché Mana Drain verrà usato. Annetto che c'è modo per evitare le counter, ok. Roma Drain, le mazzi verrà usato. Mi viene in mente un solo mazzo che la vuole e, oggettivamente, un solo mazzo che la soffre. Cioè, sul Tai Midrange, non Show & Tell. Il sul Tai Oco Uro. Perché il sul Tai Midrange la vuole per il Mirror e la soffre perché gli spacca Oco e Uro. in maniera non counterabile. Quindi, secondo me, questa anche lì è relegata inside contro specificissimi mazzi. Vabbè, scortia. Comunque, un dono che è stato fatto. Zo ha un Mana Layline, che voglio dire. È meglio, ok. L'ayline non può essere nemmeno tolta da Brabdichè. Quindi, cioè, è già di base... È praticamente, ok, un'aggiunta possibile per qualche side, diciamo, secondo me. Più che main deck. Poi, sicuramente, main deck qualcuno ce la butterà. Non fa schifo. Però è che è ridondante. Unwished Unmaking, che se non sbaglio, è di... Sì, è diciato per Innistrad e non c'era in Historic. Giusto? Ora che c'è, è comunque, 3 Mana esilia qualsiasi cosa instant. Perdi 3 punti vita. Però costa troppo, secondo me, sia per l'Historico che per il Timeless. E con 1, senza quel problema del perdere 3. C'è qualcosa che giochi tanto bianco e nero senza avere gli altri colori? Guarda il volo se c'è già, perché non vorrei dire cazzate. C'era. Vedi, appunto, se c'era, fa pensare. C'era. Perfetto. C'era è non comune. Sì, sì. È solo perché è bella. Poi, ordiamoci a queste qui. Comunque, sia la gente le vorrà, perché so vere, eh. Archive Trap. Allora, questa invece, qui bisogna farla un po'. Questa è pericolosa. Il prezzo è tripliato, così. Giorno alla notte. No, questa 10 euro. Cioè, l'hanno ristampata per farla scende, perché costava 10 euro, tipo. Ora sta 3,50 euro. Non è abbassato? Non è abbassato. Tutte le ristampe abbassano prezzi, per forza. Sì, sì, no, ma avevo visto che era andata, tipo, a 30 euro. Sì, c'ha avuto dei picchi strani. Infatti l'hanno ristampata perché, purtroppo, l'unica stampa era Zendikar. È un po' pesante. Il fatto è che questa qui, in Timeless, in Timeless è sicuro, in Historic non lo so. Perché? Perché in Timeless è 1013 gratis appena uno feccia. E questa cosa è incredibile. Esatto. Cioè, il fatto che puoi... Cioè, facendo un po' di conti, si sono fatti, un mille può essere in grado di chiuderti di terzo. Se va come deve andare. È periodosa. Perché soltanto ti scodelli... Ma Tasha si usa il mille? Eh sì, per forza. Ecco perché i costi di mano sono molto bassi. Questo c'è il rischio che se te la trovi due di mano, immagini 26 di turno zero, eh. Cazzo. Nemmeno uno, zero. Cioè, l'avversario è la speccia. Appena oppo speccia... Appena oppo speccia, te gli fa partire 26 carte se ce n'hai due in mano, cioè. È una roba assurda. Cioè, ti dimezza la quantità di carte che te devi tagliare col resto del mano. Cioè, se te fai... Immaginiamo veramente una mano con doppio architrap di mano. Poi ti fai... Di primo fai terra granchio, e poi fetch, terra glimps, gli hai già rismezzato di nuovo il mazzo, c'ha 10 art. È una cosa assurda, è una cosa incredibile. Un paio di domande. Allora, che differenza c'è tra Timeless e Historic? Ah, Timeless e Historic sono l'intera quantità delle carte di arena, più banlist diversa, e... Cioè, proprio set diversi interni. Che è Timeless e non ha ban. È tutto sbannato. Quindi c'ha le fetch, c'ha Ragavan, c'ha tutto. Historic ha un sacco di ban e... E... Proprio del... E delle carte di diverse... Ah! Historic ha Alchemy. Ribilanciato. Cioè, Alchemy è in entrambe, ma in Historic Alchemy è bilanciato, con i buff e i nerf. In Timeless le carte sono sempre uguali al... Al cartaceo, tranne le carte di Citalolli. Ok. È troppo complesso! E impara a pensare. Era, la puoi fare con Snap con... Snap? No. Non la puoi fare con Snap perché costa 5, anche se costa 0 per come costa alternativo. Questa va provata perché Mill... Mill può essere veramente forte. Eh sì, eh sì. Charm c'era già, Back 4 More c'era già, Bedeville fa schifo, Bride in the Garden c'era già. Clear Shot c'era già. No, ok, niente. Defiance c'era già, non si gioca. E... Commandeer. Commandeer non c'era. Commandeer non c'era. Puoi esiliare due carte blu, invece di pagare il costo di mana, prendi il controllo di una spell non creatura, puoi scegliere nuovi target. Domanda. E questo è importante. Puoi prendere il controllo di Approach of the Second Son? Game Control... Beh, in realtà sì. Beh, sì. Ma viene rimischiato nel tuo e l'hai castata tu o l'hai castata lui? L'hai castata lui. L'hai castata lui. Quindi, però, ti assettiva a te. Quell'abilità che dice il prossimo, se non sai anche Gioi, lo... Inci, ce l'hai te. Eh, ma tu non l'hai castato il primo. Vuol dire. Te comunque... Comunque l'hai tolta. L'abilità è quando la seconda volta è ben giocato ti dà e vinci. Quindi lui non l'ha guadagnata questa abilità. È come se lui l'avessi counterato. No, perché lui la casta e lui comunque la rimischia nel suo. E approccio dice se è la seconda volta che la casti. Ascolta, sì. Ma metti... Non l'ha guadagnata questa abilità lui. È come se tu l'avessi counterato. Cioè, se lui ti fa... Approccio seconda, counter. Va bene. Il prossimo che farà di approccio seconda è che vince. Lui guadagna. È quello. È il fatto che risolve nel tuo. È vero. Lui non ha... Esatto. Lui non ha l'istanza di vincere se ne fa la seconda. Quindi la seconda è la prima. Sì, esatto. Ce l'hai te l'abilità. Quindi, nell'eventualità, tu ci avessi nel mazzo un altro approccio, vinci. O se glielo ricopi di nuovo, ma ho capito. Però, basta che lui abbia in mano un altro peschino da sette. Ovvero Del... Ovvero Del... No, cosa... No, come cazzo si ama? Dirge... No, o mi viene il nome, c'ho l'apsus. Se country approccio la seconda, sì. Se country la seconda volta... Dig, sì, bravo. Se c'ha Dig o Trax, la vince uguale. La prima. La prima volta. Deve far guadagnare. In realtà non è una bella risposta per Siontel. È molto meglio fare altra roba. Però... Oddio. Cos'è che abbiamo adesso in Historic Timeless che questa, se prendi il controllo di lo spell non creatura, hai vinto? Probabilmente micropotence. Micropotence, onniscienza. Commande di onniscienza, effettivamente, sì. È molto meglio. No, sì. Non creature, sì. Praticamente te... Quando la risolvi, la risolvi nel tuo, permanente. Puoi prendere Omni. Puoi prendere Omni. O può fare onniscienza, la pigli tu. GG. O Cos, o la combo con... A parte si usa la combo con Ultimatum. Si usa ancora in Historic. Combo Ultimatum. C'è in Historic. Ah no, è vero. No, 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 no. Non è... Non la cassi a zero onniscienza. La metti in campo Siontel. Non lo puoi fare su onniscienza. Ah no, in quel senso sì. No, no, no. Quello no. Quello no. Quello non funziona. Se ce la metti in campo, sì, quindi niente. Sto pensando a un modo di romperlo. Comandir. Che effettivamente OPPO fa una spell che... No, non so. A me non c'è niente di troppo... No, no. Può essere una side contro qualche mazzo. Ma tipo appunto Ultimatum. Se c'è ancora Ultimatum... No, non esiste, non esiste. Però no. Era forte contro Worldwake Rage, praticamente. Ma anche lì c'è di mello. C'è Narset Traversal che costa due, voglio dire. Quindi... Piuttosto, cioè, meglio copiargliela. È vero che la fa anche lui, ma a te magari ti ha costata due e gli copi la magia. Ah, Fii, entra. Entra. Cane. Se ci sei... Contagione Engine. Contagione Engine se nemmeno ristampa per i soldi, ma... A livello di gioco, effettivamente... Qualche combo, My Commander. Questa è l'hanno stampata per i commanderisti. Cioè, non... Sto pensando. Carn. Con sei meno due meno due. Oddio, Carn. Può mettersene una lì da una parte. Con sei meno due meno due alla board. E poi lo... Comincia a proliferare la bestia. No. Innesima ristampa per i commanderisti di merda. No, poverino. Creco il willpower anche lì. Creco il willpower è 15 euro di carta. Ma che cazzo fate? Mi dicevi voi in commander che cazzo fate? Puoi prendere le carte di merda e farle lo sta a 20 euro. Eh, perché effettivamente lo fai facilmente il tuo stomano. Poi c'hai i generali che ti raddoppiano la roba. Tra l'altro io sto avendo feedback strani da quella lì. Anche per lo standard che ti dà più mantenimenti. Che sto trovando gente che è entusiasta. Vedi veramente voi. Carte dimenticate dal costruito improvvisamente arrivano a 40 euro in commander. E te bestemmi perché l'hai venduta a un euro. Perché ovviamente non devi vendere. Mai niente nella speranza che qualche commanderista sbrocchi e la faccia diventa stessa. E non parare a leggere il commander. Cioè te devi pensare che costa troppo. Aspetta. Costa troppo per i formati eterni. Ma per il commander devi capire quanto potrebbe spostare. E un costo di 7. È tranquillissimo per il commander. 15 euro. Se è una carta simile alla cloni fai una broccata di danni e una botta sola. Assurd. E quindi niente. Che complete power ristampa prima i commanderisti. A noi ci importa un po' una sega. Crime Punishment. Che era di dissension. Senti te. Allora con 5 metti una creatura ad un incantesimo dal cimitero sotto il tuo controllo. Dal cimitero dell'avversario sotto il tuo controllo. Con x e 2 distruggi ogni artefatto creatura incantesimo con mana value x. Per quello che deve fare costa troppo secondo me. Ma in realtà pensa soltanto a Punishment. Lascia perdere. Sì sì Punishment ovviamente. No l'altro non la leggevo nemmeno. Punishment. Oh ma cioè con 4 levi tutta la borda. Sì ma c'è quella nuova che esce a 2 mana e spacca tutto quello che costa 1 o meno e costa già 2. E più o meno quando fai questo effetto vuoi spaccare da 1 o meno perché sennò fai altro. Eh ma è 1 o meno se l'avversario ci ammazza e costa 2 quella lì te la fai più. Eh ma questa è 2 e basta. Nemmeno 2 o meno. È 2. 2. Esattamente 2. È vero che la puoi fare a 0. La puoi fare a 0 per spaccare tutto ciò che costa 0. Eh tutti i pedini. Tutte le... A sto punto fai l'altro si spacca anche tutto quello che costa 1. Se la fai a 0. Questa fa anche rianimino su... Molto meglio Blast Zone è una terra. Cioè fa cacare. No fa schifo. Questo week con 5 ti puoi rianimare roba della cimiteria avversario. Fa un po' caccare. E ti ricordo di scendere. Il Cruelio. Bello. Il Cruelio non ce la fa. Non ce la fa. Incostruito secondo me. Se andava in standard. Cruel Ultimatum in standard era una... Se ce andava in standard Cruel Ultimatum. E in commander chiaramente. E in commander chiaramente. Il Cruelio... Cioè sacca una creatura. Cioè perdi 5 punti vita. Scarta 3. Pesco 3. Guadagno 5. Ripendo un mano. E... Cioè paradossalmente sarebbe bello in standard. Perché c'è Chandra. Quindi ci sarebbe un... Chandra Ultimatum sarebbe rotto. Ma basta Chandra Breccia. Molto più facile. Molto più efficace. Eh sì. Che Breccia sta 7 neri. Questo c'è 14 colori. Vabbè. Ma tanto sappiamo che i colori lì... Vabbè. Show Intel prende permanenti. Non fa spell gratis. Show Intel deve mettere in campo qualcosa. No. Se me questa è una merda. Ce la fa. Perché non ho ristampato sta 30 centesimi? Vabbè. Perché era bello. Beh si metta. Anche questa è una cacata. E la spiego. Perché c'è gente ipata. Attenzione. C'è bravo. C'è l'acchezzo. C'è l'acchezzo. C'è l'acchezzo. Quattro mana sorcery distrugge un artefatto, un incantesimo, una creatura e una terra. Se ne manca uno, niente. Niente. Esatto. Ce l'hanno anche scritto però stavolta. Non può gastarla se manca. Sì, c'è il testo antiscemo. Perché. Allora. Il target può essere legale dopo. Cioè. Cioè anche se dopo te lo levano uno. Nel senso. Tipo che ne so. Bersaglio anche un tesoro. E lui lo spacca in risposta. Un importe. A che punto funziona. L'importante è che sia target al cast. Sia. E siccome te c'hai la priorità. Vai. Lo tiri addosso. Quindi diciamo siamo in uno standard in cui è un po' più. C'è lo standard. Che poi non va in standard. Ma vabbè. Qui siamo in una modalità di gioco in cui è più facile rispetto al passato. Perché a volte altri mazzi non c'erano nulla. Sì ma un mazzo. Uno zoo. Senza artefatti. Questo è un traffico in culo. No. Ma poi fa schifo. Cioè questa arte è veramente gigantescamente una merda. Denial. Ma non capisco nemmeno dove lo possono mettere. Perché anche con Madre la gente ha capito e non vale la pena di usare. Denial. Just fast. Sperate la detenzione. Questa non c'era. E. Deputi. Of Detention appunto. Cioè. Dev of Detention è andato a fare diciamo il mocking a questa carta. Quindi. È la stessa cosa solo che incantesimo. Ha senso in historic? No. Impedisce però di giocare roba uguale eh. Sì ma no. Cioè. Non costa troppo. Ce ne feca un cazzo in historic e timeless. Se non ci sono dei mazzi che si basano fondamentalmente su un pezzo che deve rimanere lì. E quelli che ne arrivano dopo. Questa non si fa niente. Questa pianta le entrate di altra roba. L'unica cosa interessante di questa carta è che in quest'artwork è questa è Alfie. Sì. Sì. È vero. Esattamente Alfie. Altra domanda. Perché fare la Detention Sphere in commander? Perché magari lo potrebbero essere per i commander? Non serve a niente. No no. Non è stampata perché probabilmente è in flavor. Non c'è un motivo specifico. La Dust Bowl? La Dust Bowl? Delle spedizioni di... Eh ragazzi. Maschere di Mercatio. Una delle... Forse le tre carte giocabili di Maschere di Mercatio a una era Dust Bowl. È anche forte. Ah tecnicamente fermi. Capiamo un attimo. Perché la Dust Bowl ti trasforma tutto in Wasteland. Però costa un milione e mezzo eh. Cioè Dust Bowl è quattro mana e ti sacchi una terra. Ovvio. Di quelle che hai tappato si presume. Quindi tecnicamente... No non è tre mana eh. Non è tre mana. È tre più. No è quattro. È tre tappa Dust Bowl. Però... Vabbè però una di quelle terre la butti via e spacchi la roba. Però in un bicolor... In un bicolor. Che pensa ad andare a pelle lunghe. Butti dentro. Sì. Ma poi... Secondo me... Tipo sta meglio questa. No. Non è detto... No perché comunque vuoi colori... Vuoi colori. Cioè Field of Ruin è buona perché comunque spacchi la Manland del cazzo e ti vai comunque a riprendere la carta colorata. Sì ma c'è da dire... Scusa questo. Appunto per un control ti ritrovi contro qualcuno che ti fa robe lacchezzose con le terre e le levi in continuazione. Cioè te non avrai mai problemi che ti manchi la terra per spaccare. E comunque è una terra... Cioè Mana te lo dà. Mono nero siete pazzi. Mono nero con delle terre in colore. Come la fai Necropotence? Pazzito. No 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 no. No? E va nel Ponza. Questo tu ti metti lì e cominci a bloccare l'avversario. Il Ponza inizia a avere un po' di roba. Il Ponza c'è... Gli manca... Ogni espansione al Ponza gli manca quel qualcosa. E meno male. E meno male. Non so se gli servirebbe. Perché devi spingere perché l'avversario faccio... Non so se servirebbe a Giunt Ponza. Sink all. No dai dai ti prego. Elettro Dominance. Vabbè. Serve soltanto a fare i Rhinos di secondo. Endless Detour. Ristampa. Essence Capture. Vabbè. Fell the Mighty non c'era su Arena ma non se ne sentiva assolutamente il bisogno secondo me. E' talmente tante fratte. Distruggi tutta la creatura con forza maggiore della creatura bersaglio. Oddio. C'è simile come effetto che dici il numero. E c'hai tutti uno uno. Eh ma c'è già l'effetto che dici il numero e spacca oltre. Va bene ma comunque lì qualcosa al tetto lo spacchi. Questo pensalo per... Cioè allora aspetta. Perché qui stanno spingendo... Cioè stanno spingendo. Questa è una carta che andava nel mazzo culi. Qualunque combinazione di colori ti voglia. Vai mazzo culi. Sono tutti zero qualcosa. E quindi questa è una rimozione in più. Prima tutto per far notare l'ore. Questa è una bastardata perché... No fermo no. Se ti spacchi... No. Distrugge tutte le creature con forza maggiore della creatura bersaglio. Quindi se non c'è la creatura bersaglio spacca tutto. Mi conta zero penso. Mica wiffa. Il peggio selezioni quella di qualcun altro. Io non penso wiffi eh. Deve avere una... Ma se te in risposta ti fai cut down sull'uno uno. Wiffa o no? Non risolve. Allora fa schifar cazzo. Risolve. No va bene. Adesso ho detto quella carta lì è al solito. È commander per il mazzo culi. Un culi qualunque. Cioè ce n'è almeno tre o quattro combinazioni. Perché in teoria è esatto. In teoria è risolto. Cioè è partita. Il cast ce l'ha avuto e ha segnato l'uno. Lo può darsi. No no in realtà l'hanno guardate diversamente. Bisogna vedere se gli hanno fatto un'errata nella regola. No Lore. È come dici al cast di questa spell. Bisogna vedere se la cast registra l'uno. o se ne va. Quello sì. Quello sono d'accordo. Bisognerebbe capirlo. Bisogna vedere. Perché forse per come è scritta così è Fizza. Fling. Ristamp. Allora Forza of Vigor. Forza of Vigor l'ha fatto parlare tanto. Forza of Vigor l'ha fatto parlare veramente tanto. E sta alla sua bella ventunina di Euri. Ebbè. Ebbè. Ma ci sono mazzi che hanno due minacce artefattose. Quello. O incantellimose. E questo lo permette di side contro Forza. Contro onniscienza. No no ti ammazzano. Sì. Risposte di Agmo Toshventel. No non puoi rispondere istantaneo. Ragazzi non bastano in ma. Allora bastava l'E-Line in zone. Invece abbiamo capito che non basta. Servono le counter e i vortex. Perché le risposte istantanee non funzionano. Se te gli fai Forza of Vigor istantaneo a sua onniscienza. Lui a instant speed ti fa tutto il mazzo. Basta che abbia in mano Born Upon the Wind. Se c'hanno Born Upon the Wind hanno vinto. Quindi non basta mai risposta a Shantel. E oggettivamente è vero figo. Ma non mi viene in mente nessun mazzo che ha così tanta forza su uno specifico artefatto. Uno specifico incantesimo. Però magari. Cioè è quello il discorso. L'esistenza. Siamo all'è. È quello il fatto. Questa carta è la classica carta che esistendo blocca delle cose. Sì. Cioè esistendo non potrei mai fare una combo con due incantesimi. Esatto. Hai capito? Devi metterlo in conto e potrebbe esserci. Tradossalmente sono tutte carte che starebbero da Dio in standard. Non tanto... Ora forse il vigore in standard siamo un po' fortine. Ma non ti... Ma guarda. Abbatte due mazzi eh. Cioè non è che ne fa tantissimi. Alla fine è incantesimi. E... E... Ecco tipo per esempio se ogni tanto... Oh per esempio ecco cosa fa questa carta. Se ogni tanto nel mondo è esistito qualcuno che dar cazzo... Aspetta un po'. Eh rompe il cazzo a un martellone. No no questa mi leva gratis la Blood Moon. Ah sì. Sì. Assolutamente. Per Zoe Titan. Sì. Sì sì. Non ho bisogno di castarla. Non ho bisogno di Tirasander. Non ho bisogno di niente. Sì sì sì. Vero c'è Raboseju però. Sì vabbè insomma. In modern spacca l'eyline grazie al cazzo. Se ci danno Shaun of Draco. Questa è un deterrente per Shaun of Draco. L'eyline of the Guild. Leva anche Rest in Peace eh. La basica verde ce l'hai di solito se non sei un cretino. Se giochi contro il mazzo e c'ha Blood Moon. Fecci per Foresta eh. In Zotto. Sempre fatto. O feci per pianura per l'eyline. Per la tua leyline che costa 4. Con Blood Moon in campo. Però. Forse è buono. Che Oppo. Te sei full tappato. Non te ne fega un cazzo. Te ne sbatti la minchia. Oppo fa Blood Moon. Te picci un gatto. Ponti. Anche perché up to. È il motivo che si diceva prima. Che quella gru fa cacare. Up to vuol dire che spacchi uno. Picker Poison no. È Sorcery. E purtroppo a volte capita. Che per fare un buon turno 1 e 2. 1, 2 e 3. Te a volte con Zoll. Non ti puoi permettere di fecciare per basica. Perché ti clocca il turno. Quindi te con Forza of Vigor. Te chiaramente sei. Cioè hai il culo parato. Che è vero che fai 2 per 1. Però non ti devi rallentare a merda. Oppo fa turno 3. Niente. E turno 3. Niente hai perso. Se io in campo ho fatto. Cioè se io ho fatto Gatto Cavu. Te mi fai. Forza of Vigor. Io ti faccio. Se te mi fai Blood Moon. Ti faccio Forza of Vigor. Corro su Blood Moon. Te non ho fatto nulla. E io ti rimeno per 8. Probabilmente vincendo. Quindi. Non puoi pigiare nel tuo turno. Ma ti importa una sega. Perché è proprio bello il discorso. E te la picci nel suo. Proprio te la picci nel turno. In cui scende Blood Moon. È buona. No è vero. Forse un paio. Nella side di Zou. Io ce le ho avuto dentro. Non ci pensavo a Blood Moon. Non ho mai avuto. È quello il discorso. Non ho mai avuto tutti questi problemi da Blood Moon. Perché Zou non perde da Blood Moon. C'ha Ragavan. C'ha Geganta. C'ha le Leyland. Che comunque sono castabili a 4 mana. Quindi io alla fine non ho mai. A Blood Moon concedo. È più Titano che Blood Moon concede. Però anche Titano. Ora c'è una risposta diretta. Forza of Vigor. Anche se prima faceva Sylvan's Cry in Boseju. Cioè la risposta di Blood Moon. È. Sylvan's Cry. Intanto. La foresta ce l'hanno. La fecciano. Quindi una foresta ce l'hanno. Fanno Sylvan's Cry in Boseju. Però sì. È un buon inserimento di side. Bello. Va bene. Fratturalo? Fratturalo c'era? No? Fermamente lo fai anche te. Fratturalo non c'era. La solita domanda. Esiste il desiderio di esiliare un permanente e averlo te? A 5? Forza. 5 è tanto. Allora questa Timeless non lo vede nemmeno piangendo. Ma l'historica. Considerando che Azorius Contro è un mazzo forte. In historic c'è qualche mazzo forte che soffre a Zorius. Questo potrebbe essere per il Mirror. Bravo Vin. Per il Mirror. Teferi. Questo è il quinto Teferi. Il quinto Teferi o un altro anello. Ma non è male. Se ci pensi. Se la guardi così. Ma anche solo esiliare la Shieldred. Ma no. In historic Timeless non esiste Shieldred. No. In timeless. In historic Timeless. No. In historic Timeless. In historic Timeless non c'ha fa. Timeless non c'ha fa. Fa fa. È davvero considerabile una sorpresa di chiesire un 5 mana. Teferi costa 5 mana. No Lore. Te Teferi lo casti a 5 in historic. In historic lo casti a 5. Teferi. O quando oppo è tappato. O di settimo o ottavo turno. Nel Mirror. Che è una guerra di stenti. Vince chi rimane più tempo con Teferi in campo. E questo è quello che abbiamo capito da anni di Azorius Mirror. E comunque non sembra. Ma in realtà l'ho giocato tanto. Via via. Lo riprendo mano io a Zorius. Per qualche motivo. E a Zorius Mirror. Io l'ho giocato tanto. A Zorius Mirror vince per due modi. Quello che sta più tempo con Teferi. In campo. O il figlio di puttana. Che sai da comments di Endgame. Questo è l'unico modo. Che sbilancia forte la Zorius Mirror. Ok vabbè. Chi pesca meglio ci siamo. Ma se peschiamo tutti e due medio bene. Vince quello che sta più tempo con Teferi in campo. Questo è un quinto Teferi. Tecnicamente. O quel che servirà. Nel senso. Può essere. È davvero lenta. Può essere. Lento in Azorius Historic lo te ne frega poco. Ma questa può essere. Secondo me. Un 1 per. Molto jolly. Di side. Perché? Perché è forte anche contro Monogreen. Perché tu non avendo threat. Con Monogreen. Gli fotti. Volendo. Il 5-6. E diventa un bel parante. Senza innescarglielo. Nel niente. E non glielo inneschi. Certo. Ovvio. Contro Monogreen. Gli togli 3 devotion. Gli pilli il 5-6. Cosa che con la vratta. Non puoi fare. Perché magari. Spaccandogli. Gli dai un festival. Che c'ha nel cimitero. Dicono davvero. Anche Anello. Cioè te alla fine. Esiliandolo. Anello sì. Anello e Teferi. Sono i bersagli ovvi. Sto andando proprio oltre. Per cercare qualcosa di assurdo. Secondo me è. Può essere. Può essere interessante. Un 2x1 forte. Di una cosa molto specifica. È plausibile. Grazie fila. Grimstone. Vabbè. Mi fa ride. Vabbè. Grimstone. Lo sappiamo. Se ci danno Painter. Per qualche motivo. Negli special guest. Tra un po'. Ci butta un Painter. Combo. E se no. Non si fa niente. Oddio. Contro Mono. Ma. Bah. Bah. Contro Mono Black. Per batterelo in mill. Side mill. Di Timeless. Fai 3 contro Mono Black. Finché un Becchi Terra. Mili tutto. Mili. Eh. Ma costa troppo. Che comunque. Mili di più. Con una botta sola di tascia. Secondo me. Eh sì. Nel momento in cui. Col mill. Cioè. Te peschi una terra. E finito il giugno. Per che altro. Tremana sono tanti. Vabbè. È col servo del pittore. Adesso. Tremana sono tanti. Tanti. Allora. Fanno usare il fatto. Che prossimamente. Potrebbe. Essere stampato. Se lo del pittore. A me mi fa. Esatto. L'unica cosa che mi fa questa carta. È quello. Mi fa annusare. Che sta. Che potrebbe arrivare il painter. No no. Maffi no. Maffi no. Maffi no. Maffi no. No Maffi. Maffi basta. Maffi. Allora diceva. L'ha preso bene. Non mi interessa rimanere. Sì. Dimensionate le proporzioni normali. Vabbè. Pille. Cazzate. Inder in light. Di Charzo Valara. Counter una spell. Che targetta te. O un permanente controlli. Pesca una carta. Perché dovrei volere questa cosa. Non lo so. Se ci tieni proprio tanto i tuoi permanenti. No. È che. C'è di meglio. C'è già di meglio. Niente. Umile. Però di counter a due. Ti fanno pescare. Ce n'è poi. Counter a due. Ti fanno pescare. Effettivamente. Non ce ne sono. Eh ma questo. Questo prezzo. Ti dà il suo mana. Counter una spell. Che targetta te. O un permanente che controlli. Pesca una carta. Perché io non dovrei fare semplicemente. Counter una spell. Basta. E sono liscio. Anche counter la spell. Mana drain. Perché non dovrei fare quella. C'è mana drain adesso. In un istorico. Certo. Lo stiamo parlando. Preferisco. L'unica carta che mi viene in mente. Terra tozza. Canto il pesco. No. No. Ragazzi. Allora. 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 Questa carta. Rischia. Di. Fare. Niente. Le carte che rischiano di fare nulla. Sono pericolose. Eh sì. Metti caso contro un mazzo. C'ha le creature. E questo lì ti fa un cazzo. Allora. Se voglio giocare counter. In timeless. C'ho quattro counter spell. E quattro mana drain. Via. C'è un cazzo di inventario. Mana drain non arriva mai in historic. Se consideriamo che counter spell è bannata. L'hai vista la ballista te? Esce tra. Una settimana. L'hai vista la ballista. Di breaking news. Per ora è zero. Quindi. Per ora è tutto in historic. E tutto in timeless. Io. 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 Quindi devo ragionare. Con mana drain arriva in historic. Cosa che fa molto ridere. Allora. Allora. In generale. Counter del pescanarte è forte. Cioè. Non veniamo fuori discorsi. E ma dei. Dei mazzi control. Così. Che finiscono la benzina. E te hai bisogno. Di far. Di riempire il serbatoio. Con i peschini. Questo fa tutto da solo. Boh. È una bomba. Non va buttata chiaramente nel water. No. Quando scrivi pescanarte su una carta. Diventa una carta. E questo lo sappiamo. Eh. Però. È molto specifico. Eh sì. Però tra. Ascolta. Se te c'hai contro un mazzo. Che ti bersaglia la roba. Che il suo lavoro che fa. È quello. Tra una counter spell. E questa è meglio questa. Di ma reprieve. È meglio reprieve. Ho capito. Qualunque counter. Che costa due. Che non ti dà una carta. Se l'avversario. Ti fa. Versaglia. È peggio di questa. Perché questa ti dà la carta. Ma quanto specifico deve essere questa cosa. Ma perché non devo counter e basta. Con tutto. Anche per counter e verrà. Perché. Perché vuoi di più. Di side c'è di meglio. È quello il discorso. Veto. Veto è più forte. Nel mirror. Veto. È molto più forte. Perché la gente è contro di te. Che se è a Zolius Control. Sai dai counterini. Dispute. Spell Pierce. E stasera. Voi Veto. Se hai paura di qualche combo. E ti arriva nel viso. In qualche modo. Veto è mille volte più forte di questo. Qui. Essendo. Cioè questa qui è più veloce. Quindi dovresti. Pensarla in una sorta di. Che è questa più veloce? E ti rifendi. No. Nel senso. Allora questa qui. Dandoti la carta. Non hai bisogno. Cioè. Se finisci. La benzina in mano. E voi. Hai normalmente un mazzo. E si prende il suo tempo. E la benzina te la ridà. Ok. Quando è che ti arrivoi subito l'arte. Quando vuoi subito. Rimette. A fuoco. Quindi. Ha più senso. Magari un mazzo. Che ti aggredisce. Quindi ti dà un mazzo veloce. O un agro blu bianco. Ma ci sono? Non lo so. Antra tutti gli scartini. Senza farglieli rifare. Il vetro. Oh. Allora. È una carta controversa. Questo bisogna vedere come è meta. Sicuramente può darsi in qualche side. Vedrà posto. Però bisogna capire se è necessaria. Oppure se è superfluo. Come ci sono? Sì. Umiliare. Milet. Ipotesizle. Vabbè. Queste sono cazzate. Imp Mischief. È due mana. Cambia il target di uno spell con un single target. Perdi punti di vita parecco e la spell value. E se risiamo al suo discorso. Cos'è che io ho bisogno così tanto di ridirettare? In Timeless e Historic. È quello. Dipende da quello che ti tirano addosso. Se ci fosse un mazzo e fa palla di foo. Plonata. È un cerco. In Vogue Despair. Non stiamo giocando lo stesso Timeless. Né lo stesso Historic. Se mi dici In Vogue Despair. Travel Flames. Prendo due per rifarti cinque. E te sai di questa cosa contro Zoh. Rischiando di venire preso a palla in faccia dai 5-5. Cioè nel Fireball non esiste. Oddio cosa state dicendo. Tendrils 1. Tendrils 1. Eh sì. Gambi 1. Gambi 1. Fiamma. No. Un spell con un target singolo. Quindi Wiffa. Non lo puoi fare contro... Contro Flame of Honor perché ha target multiple. Perché è creatura per il giocatore. Perché è target player. Non è pesca 2. È target player pesca 2. Allora, i turni extra dicono quasi sempre target player fa turno extra. Ma se ne usano? Ma chi le usano? Un spell con un single target. Mi sono scuro? Però vabbè. Eh sì. Ascolta. Prendo io. No. Non lo fai te. Lo faccio io. Ti vedi di secondo. Ti fanno di primo o di terzo. Ma mazzi eh. Un mazzo. Un mono nero. Se il 3 mana c'è il 5 è di lui. Allora. Questa è un'altra carta preventiva. Cioè al momento non mi sembra serva contro un cazzo di niente. Il fatto che c'è fa paura all'uomo della strada. Che pensa? Il discorso è dicevi prima. Beh creativi. Isatto vado avanti alla prossima che non c'è già su arena. Ma l'esiliante. La roba che spacca gli artefatti e gli incantesimi. Questa qui. No. Cambi. Faccio lo share dove vanno. Già di turnover. Altra ristampa. Buffa. Perché è praticamente è 2 mana. Anello dell'oblio. Anello solo su creatura. C'è comunque già di meglio secondo me. I mazzi che vogliano queste carte. Allora il bianco non si gioca in timeless se non in zoo. Non esiste il bianco fondamentalmente. E splash in titano. E niente. Questa è una ristampa per i pauperisti. Vabbè. Eh c'è già l'eyline voglio dire. L'eyline è molto più interessante. Come fun. Allora è qui. Qui. Qui ci siamo. Ho spoilerato per tutto il tempo. Lo sapevamo. Cioè che chi oramai non aveva visto Mana Drain. No no ma è Mana Drain è la cosa che fa più parlare. Però dicano l'hot legal in storica. Attenzione. Ah ma nemmeno in timeless. Perché? È uscita una cosa che noi non sappiamo. Aspetta dove vai? Dove stai andando? Eh sto guardando. Le altre carte. Ah perché ancora non è su arena. Ah ok. Devono ancora uscire. È perché non si sa niente ancora. Ok. Non si sa nulla eh. Raga finché non ci dicono. È bebt. Cioè appena ci arriva una mail con scritto è bebt. Mana Drain è 4 per in storica e 4 per in time. Il che cambia tutto. 4 per Mana Drain in tutti i mazzi col blu. Sono un problema. Io non so se voi avete mai giocato contro qualcuno e va tirato contro Mana Drain. Perché qui il gap generazionale potrebbe avervi salvato. Io da commanderista e anche da giocatore di vecchia data l'ho rivisto usare. Mana Drain vuol dire fondamentalmente con 2 vincere la partita. È turno 2 Mana Drain e turno 3 o 5 Mana? Io non avevo idea di cosa vuol dire. È completamente sbroccato. Poi fra l'altro questa qui costa una cosa fuori di testa. Già di base Mana Drain costa molto. L'hanno fatto per abbassare il prezzo ma questa rimarrà il suo prezzo. Io è ovvio che dico sono dei pazzi se non prebannano questa in historic. Ma finché non lo dicono io devo purtroppo stare alle informazioni che ho. E le informazioni che ho sono Mana Drain e in historic. E che si deve fare? Questo è. E in timeless non è che è meno rotta. Considerate che l'hanno rifatte delle carte che fanno questo effetto qui. Ma tipo con 4 e te lo ridà forse Mana. Cioè di base? Lo so, lo so. È bannata a counter spell. Figuriamoci se non la bannano. Per ora non hanno detto un cazzo. Di solito si sapeva già. Di solito all'annuncio di queste carte qui veniva detto tranquilli è bannata in historic. Non hanno detto un cazzo. Questa comunque se fosse bannata in historic sarebbe bannata in timeless. Forse è limitata? No, per ora hanno detto non vogliono bannare in timeless. Quindi se gli fanno qualcosa a Mana Drain è limitata. Avrebbe senso. Cioè ha comunque il suo pesone. Uno per devi vivere col terrore che Oppo ti fa Mana Drain. Con l'uno per. Forse la ribilanciano. Se ci fanno qualcosa la bannano fine. Cosa non hanno pensato quando l'hanno creata? Era un altro magic. Perché la fa costa a 4? Boia. Boia. Se ti bilanciano la costa a 4. Vabbè a 4 fa prima bannarla. Ma cosa fai? A 3 è comunque troppo forte. No, a 3 è comunque troppo forte. Sono d'accordo. Cioè che io ti counter a 3 e di 4 ho 7 mana in blu? No. Sì, dice, prima c'era il Mana Burn. Cioè il concetto era quello. Te ce l'avevi troppo. Eh appunto, ho detto, era un altro magic completamente. C'era un concetto completamente diverso del gioco. Perché se no non si capisce perché esiste Mana Drain in un mondo dove c'era Hunter Spell. Fai la versione troppo più forte. Perché in realtà era forte fino a un certo punto. In realtà era rischiosa Mana Drain. Sì, parliamone. Comunque Mana lo trovavi in modo l'utilizzato. Sì, però a volte c'è chi ci ha preso 3-4 danni e magari moriva. Vuol dire tanto. Allora, intanto, i posti ovvi dove va? In story. In timeless. Show and tell. Dove c'è posto? Va dove c'è posto. Potrebbe anche andare... Va dove c'è posto il blu. Esatto. Non va in zoo. Se c'è un vestico blu lo metti. Non va in zoo. Ma va in... Va in sul thai. Va in... Va in show and tell. E sono finiti i mazzi. Problema... Potrebbe andare in mill. Se mill diventa un mazzo vero. Potrebbe. Se mill diventa un mazzo vero va anche in mill. E con 8... Ora, però, col discorso con 8 counter sec. È possibile che Izet Moon torni un mazzo? Forte. O Dimir contro l'Urrus con anche Jace. Comunque è difficile che tu riesca a fare Atrax. No, non fai Atrax. Te fai un cazzo di Atrax. Infatti, secondo me, potrebbero provare a cominciare a fare una sorta di trono. Sai che Mana Drain è un ottimo per sync... Il Dust Bowl è un ottimo Mana Sync per Mana Drain anche in late game. Eh sì. Io non ho paura di fare Mana Drain a cazzo di cane e non butto via niente perché cago tutto dentro Dust Bowl e ti spacco una terra. Sì, vabbè. Ma nella peggio dell'ipotesi l'ho visto Mana. Sì, sì. No, ma dico, magari non ti serve. Perché non ti serve. Sì, ma allora ti dico meglio metterci Karn a questo punto. No, no. Karn è una carta di merda. No. Fai l'Urrus. No, no. Karn è una carta di merda. Fa schifo. Ho capito. Ma con questa qui, pensaci. No, no, no. In Timeless. Stai scherzando, Karn. Non esiste. Allora, lo sapete o no cos'è? Perché te fai Mana Drain e fai ok. L'Urrus. Tre Mana, l'Urrus. L'uso più ovvio che viene in mente è che finalmente hanno snerfato i Companion con Mana Drain. Hanno tolto il nerf i Companion e sono tornati come erano prima. L'Urrus con Jace. No, L'Urrus in generale. L'Urrus. Cioè, L'Urrus è come era prima adesso. Lo gioi subito. Io nel discorso dicevo, ma Karn è debole perché è di quarto, ma con Mana Drain è Karn di terzo. No, ma Karn non fa niente in Timeless. Non fa niente. Ho capito. Non fa niente. Nessuno gioi, tesori, non fa niente. Cioè, Intel chiudi di terzo. Zotti mena, Mono Nero fa Vain Ripper di primo. Cioè, Karn non fa una sega. Sì, ha steltato. Ha fatto Assassin's Creed. Sylvia Squatch. Vabbè. Sneaky Sylve. Vabbè, cioè, Mana Drain è... Ma dobbiamo parlarne ancora? Completamente sbroccata. Ma chissà. Magari stiamo parlando del nulla perché la prebannano il giorno prima. Mind Break Trap, altra cosa che fa molto benzare. Allora, Mind Break Trap, al momento, al momento... Era Mind Break Trap e è aumentata di prezzo. Mind Break Trap è andata a 34 euro, più stavolta. Allora, Mind Break Trap, al momento, non fa niente. Perché Breccia è un mazzo che è quasi scomparso. Con il fa... Però, cosa fa? Stesso discorso di Force of Vigor. L'esistenza di questa carta ammazza Storm. Quindi la gente non giocherà più Breccia perché questa carta esiste. Perché se si gioca a Breccia questa carta viene messa di side. Se questa carta viene messa di side, Breccia non può vincere mai più. Sì. E quindi... Con quattro una count. È lo Spauracchio. Questo è lo Spauracchio per Breccia. Non può più esistere Breccia. Bellissima la versione full art. Secondo me. E questo è Lillo. Sì, te lo sto per dire. Questo è Lillo. Lillo, chiaramente. Che fai? Mind Break Trap? No, no, non è Mind Break Trap. Sono Lillo. Non è Lillo. Mind Slaver. Ma... Mi diceva ieri... A parte che immagine... Sarà capricciante. Bellissima. Bella, bella. Ma raccapricciante nel senso... Cioè, è bella, ma... È positivamente raccapricciante, sì. Madonna. Ora. Anche qui. Si diceva, c'era... C'è una combo che hanno fatto ora. C'è una combo che costa tanto mana, però. Capito. E se c'è modo di shittarla, hai vinto. È il tipo, quello lì che esce ora di... Ora non mi ricordo l'arda specifica, però se l'ha proprio detta durante la review. C'è una carta che ti permette di fare il loop di Mind Slaver. Sì, ma ha otto mana. Eh, no, vabbè, la devi fare con tipo Onniscienza, sta roba così. Cioè, te devi fare Mind Slaver, passo, sperare che non ti facciano niente, quando tocca a te puoi fare la combo. Greve. Però puoi fare Mana Drain, Mind Slaver, quello sì. Mana Drain, Mind Slaver. No, allora, in realtà può darsi che possa andare in Onniscienza, cioè, insieme ad Onniscienza, lo metti nel mazzo. No, Onniscienza chiude. Non si mi frega di un trullato il turno, che l'ha vinto. Un'altra chiusura. Peraltro, Mind Slaver è una carta infame, che in realtà è molto forte. Ti dici, le combo più sono forti, più le fai prima. In realtà, Mind Slaver è una carta bastarda, perché il suo meglio lo dai in mid. Cioè, in early rischi, nel turno dell'avversario, di non fargli abbastanza male. Cioè, tipo, il turno, te dici, boi, ho fatto una combo assurda e mi fa fa Mind Slaver di primo. Deh. Deh, e quindi? Fai il passo, è la cosa più grave. Ah, self-tozza, self-tozza è la cosa più grave che puoi fare nei primi due turni. In realtà, Mind Slaver, i danni veri, li fa intorno al quarto o quinto turno. Micropotenza. Micropotenza, venti danni. Sì, ok, sì. Quello sì. Oh, lo devi lasciare a uno. Non lo puoi uccidere. Ah, è vero, non puoi ucciderlo. Non può pagare. Ok. No, Mind Slaver, al pre-release, a Gigi. Eh, vabbè, capito. Giri tutto, spacchi tutte le ozze, ti usi tutti i remuvali in faccia. No, non lo sappiamo, insomma, gli effetti del Mind Slaver. L'unico, esatto. Allora, si parlava di Karn, prima. L'unico, l'unico utilizzo reale che io vedo a Mind Slaver è uno per decide da prendere con Karn. Cioè, un miliardo di mana, puoi fare... Cioè, oggettivamente è molto distruttivo come turno. Cioè, è forse la cosa migliore adesso che puoi fare con dieci mana. Con Karn, se nel blu c'è Mana Drain, a quel punto può avere senso. Fai una sorta di trono, un tron. Mentre ora non ci sono le urza trono, ma vabbè. E con quello fai le tue schifezze che servono. No, ma dico, cioè, Karn ha un toolbox di cose utilissime, ma non ha una chiusura. Mono Verde. Mono Verde è la cosa più grossa, ma lo sappiamo. La cosa più forte che può fare Acroma Memorial se ha già una grossa board. Quindi, se te c'hai una grossa board, fai Acroma Memorial, hai vinto. Perché attacchi con tutto volante, travolgere, first try, fa un disastro. Se non hai chiuso con Acroma... Cioè, ora hai due chiusure, quindi. La chiusura creature, quindi attacchi con tutta la board Acroma Memorial vinta. Oppure Mind Slaver, tocca a te, tocca a te e tocca a te. Quindi fai tre turni, perché ne fai due te e uno suo che si fa del male. Quindi hai vinto, dai. Quindi è una chiusura. È una chiusura. Quindi sì, questa è una chiusura. Allora, craftatene uno. No, non craftatelo. Trovatene uno e siete a posto. Esatto, perché dice... Perché si chiama Trono di Urza? Perché erano le tre terre di Urza. Cioè, tutte e tre tiravano sette mani. E perché viene da Urza Tron? O le loro tre terre di Urza. No, è che... No, si chiama Trono perché la gente non capisce un cazzo. E per dire in italiano Tron, dice Trono. Perché viene da Urza Tron. È un'altra cosa. No, ma era Urza Tron. No, è Urza Tron. Perché assembli i pezzi di Voltron di Urza. È Urza Tron. Solo che la gente per di Tron in italiano dice Trono. È diventato Trono, ma non è Trono. Ormai è Trono. Perché ormai lo è, ma non è Trono. No, ragazzi, Oco! Oco in Timeless! Oddio! Niente, vabbè. Merrimenti faceva schifo anche in Standard. Allora, questa fa ridere solo perché l'hanno ristampata e che ce n'era una e costava 50 euro perché era di Portal 14 tazzi. In realtà costa un milione e mezzo e non... Costa otto, distruggi e peschi. Ma in realtà c'era anche il decreto del dolore. È plug wind, costa uno meno. No, è plug wind. No, è plug wind. Il decreto del dolore costa uguale. Ah, ok, sì. Solo che c'ha ciclo con due neri e due incolori meno due meno due a tutta la board. Vabbè, questa secondo me è un palo assurdo. Anche questa l'hanno ristampata perché? Perché chi proprio vuole far collezionista per forza e gli serve nel suo cazzo di mazzo Commander era obbligato ad avere la versione Portal che è questa qui che costa un milione e mezzo. Ma come mai le Portal sono diventate? Cioè, avrai le cifre che hanno raggiunto le carte Portal senza un motivo? Cioè, cinque mana cinque... No, sei mana cinque cinque con horsemanship, costa quarantai. Vabbè. Allora, lo devi leggere in un altro modo perché quello lì è con cinque mana cinque che è imbloccabile. No, lo so, ma è solo perché l'hanno stampate sei copie per carta praticamente Portal. Uscirono in numero limitatissimo solo per un mercato specifico, quindi... Allora, parai a carry. Parai a carry non c'era. Questo è un effetto che non c'era. Può creare un nuovo stall deck? Cioè, il gobelino è... No, perché non c'è la cosa. Non c'è la... Come si chiama? Ma non lo dico. Non c'è la Staffidol. Allora, il problema è che messo su Indistruttibile il Tresilio non è perso. Eh sì, vabbè, ma... No, allora, il paraia doveva essere la PC sulla creatura e in quel turno è vinto. Eh, esatto. Combo da due. Cioè, il capridor che fa una cosa simile però muore. Quindi non... Ti parai a Staffidol, esatto. Però non c'è la Staffidol. No, ma c'è un goblin uguale. Fa la stessa cosa un po' meglio. Ma costa di più, scusa. Costa 5. Non ho sbagliato. E costa 5. Ah, è anche la Staffidol. Con la Staffidol. Sì, ma è una combo di merda. Ho capito. Io ti dico, Staffidol esiste? No. C'è un goblin che fa la stessa cosa che con tre lotta. E con Paraya metti Goblin il turno dopo. Tra l'altro c'è il costrutto a 4. Costa 1 meno il costrutto a 4 mana nero di Marders. Anche. Anche. Però non spara i danni sul giocatore. Sì. Certo. E ora ce n'è un'altra di Staffidol. Costa 1 meno ma non può bloccare perché è più debole tra virgolette. Però con sta combo è uguale. Però in che cazzo di mazzo la fai sta combo orribile? Ascolta, esisteva la combo Staffidol. Potrà resistere in Timeless e Historic combo Staffidol? Allora no. Anche perché vediamo tra un paio di cazzo. Ecco. Ecco. Guarda perché non può esistere. Pat. Allora. Che anche qui. Diciamo tutto. Anche qui. È come trono. La gente lo chiama patto. Non è un patto. È un percorso. Allora. Sentiero. Sentiero. Quindi patto Exile. Allora. In Timeless. C'è spiga. Patto Exile. C'è rimasto male. Quindi. In Timeless. C'è spiga. Rafferizzato tutto. Tu. Ah no. C'ho stato. Non capisco come mai in questi giorni ogni tanto mi mi fa l'aggone la connessione tipo un secondo. Tutto a posto. Tornato. Tutto a posto. Tutto bene. Allora. Dicevo. Sì. Sono tornato. Ci siamo. Ci siamo. È stata una lagata notevole. Allora. Turbo Line. In Timeless. C'è spiga. E non si gioca. Nessuno. Nessuno gioca se lo svolto più Scherz. Fa pensare. In Historic invece è una grande removal. In Historic è una grande removal per Historic a Zoro's Control che sta diventando sempre più forte. In Historic si gioca. Certo. Ovvio. 100%. Come no? Ma ascolta. Ma è perché il Timeless è perché non ci sono mazze creature? Timeless è perché il bianco fa cacare e si gioca solo in Zoro. Ok. E è uno splash il bianco è uno splash di una terra di un Temple Garden in Titano perché sai di Get Lost. Ok. Basta. Fine. No no. Questa per me è un altro un plus un più uno a Zoro's Control Historic che secondo me diventa era già uno dei mazzi migliori diventa tranquillamente top 3. Eh beh. Siamo a Yagmoth e a Wizards secondo me la Trinità diventano loro. Forse For Color Omnath potrebbe tornare in Historic con Pat. Oddio. Oddio. Però no. Però no. Perché For Color Omnath è comunque un midrangione controlloso che rampa l'avversario. Ma la forza di Pat Exile è il non rampi. La forza di Pat Exile è che spesso non rampi e comunque l'era da tappare. Cioè allora Pat Exile veniva per esempio utilizzato per il Macina. perché ti faccio Pat Exile su Creatura ti cerchi il Macino 13 o 0. Anche. Questa era una combo proprio usata easy. Infatti è vero Omnath che cazzo dico Omnath è nerfato in Historic fa schifo. No non c'è Omnath in Historic nulla. Nulla nulla. No no questa va in Zoro Scontro al fine. Sì è in Zoro Scontro. Bene. Best in Festest Best in Festest è Commander è una carta di Commander di Commander 2021 che entra adesso anche in costruito vediamo cosa può dire. La distruggi fino a X Artefatti o Incantesimi e crea il doppio di X Best 1-1. Con 3 spacca 1 e crea 2-1-1 con 5 spacca 2 e crea 4-1-1 Sorcery. E con Force of Gigor ne spacchi 2 gratis. Quindi andiamo avanti. Che dobbiamo fare? Prima il Command c'era già non si gioca Primal Might grande carta eccoci qua. Allora Rianimare iniziamo un anno. Rianimare è la carta più discussa di tutto questo più di Manadrain te lo giuro si parla più di Rianimare che di Manadrain perché di Manadrain nessuno ha dubbi è ovvio. Rianimare crea della perplessità cioè non puoi fare Terra Rito in Tomb perché non c'è in Tomb ti manca un mano costa 3 c'è in Tomb in l'abbiamo fatto la review ora in OTJ esce in Tomb che è la modale quella con Spree quella con Spree con 3 puoi fare in Tomb vuol dire che te fai Rianimate di secondo no non di primo di quarto secondo secondo con Rito Scuro Terra passo anzi Terra guardo la mano normalmente è Terra Dures o quel che sarà no Dures insomma vabbè ti levo una carta dalla mano poi tu lo dopo Terra Rito Scuro in Tomb Rianimare Mano perfetta io tutte le volte ho visto Rianimare usato erano mazzi con mano perfetta sì anch'io io ogni volta che giocavo io giocavo ai tempi Terra Rito in Tomb Rianimare Morti Drago di Borromonto no con Rianimare Morti sì con Rianimare Dead il fatto è questa carta rischia di fa il giro cioè esce Rianimate Rianimator diventa OP tutti i Sidano 8 al cimitero che ce n'è un milione Rianimator diventa troppo bersagliato non si usceva più Rianimare aspetta lo SPAC artefatto di prima le fa scartare le carte o le fa le fa esiliare cosa lo SPAC artefatto quello lì che si è visto prima con due verdi e due incolori mi viene il nome ora e poi pagarlo zero la scart forse un vigor l'esili no la pitch il pitch esilio sì però ovviamente raga c'è quella carta che vedremo dopo appunto che annulla ogni tipo di sinergia cimitero e per questo ti ho detto di coso ti ho detto perché la SPAC SPAC cioè a zero per poter spaccare la nuova new entry però allora ce la devi avere ce la devi avere extraction in mano ci siamo come sempre è quello il mio discorso Rianimator è sempre stato una cosa forte finché non la giochi e ti rendi conto di quanto Graveyard 8 esiste anche incidentale c'è gente che gioca carte che non le usa neanche per il Graveyard 8 ma che fanno Graveyard 8 tipo Cavu cioè allora il discorso di questi del Rianimator c'è ci fu un periodo in cui era il tasto on off perché la gente cominciava a mettere 8 al cimitero perché arrivava il Rianimator che faceva i culoni in perché se non c'hai roba rischia veramente di scapparti subito poi c'era Letta al cimitero e Rianimator scompariva poi piano piano la gente cominciava a togliere roba e Rianimator riusciva fuori il discorso è che hai detto bene ora c'è Letta al cimitero incidentale tanto bisogna capire quanto Rianimator potrà fare però sicuramente in Timeless e in Historic ci proveranno a romperla oh quello va di sicuro cioè che il mazzo di Rianimator esisterà con Rianimate quello non c'è nemmeno da bisogna soltanto capire quali creature verranno tirate su perché è sicuro che ci sarà bisogna capire quanto sarà forte e quanto Letta al cimitero servirà perché il discorso è che se cominci a doverti difendere proprio di Rianimator la tua side si riempirà di roba che serve solo contro Rianimator esatto e quindi comincerà a fare ondeggiare il meta è come Shantel cioè te devi rispettare Atraxa di Sekon è possibile è possibile ovvero il Ripper insomma non di primo almeno già che ti fanno il Ripper di primo se te lo spacca oltretutto possono anche Rianimarlo ora volendo c'è modo di avere a zero che scarto qualcosa dalla mano a zero no a uno ti cicli i troll di Lord of the Rings cioè se ora non ci ho fatto a caso se c'è anche qualche artefattino del cazzo che ti butta roba nel cimitero non lo so se è così fosse se non fai la solita giocata di un tempo gioco per secondo esco passo butta la trazza e turno dopo c'è che lo faceva di primo può fare incantesimo di Tiny Bones di secondo Rianimare eh sì 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 self tozza sei rifatto spesso anche self tozza in Rianimare va in negativo il cosino di Tiny Bones esatto cagatemi self tozza in Rianimare e Atraxa a due Harvester cosa Harvester Bafio dice e Atraxa Harvester cosa ha detto una cosa ha detto Bafio ha detto cagatemi cosa non capisco Harvester che cazzo fa Harvester Harvester è il vampiro d'umana Polo Cili sì la vecchia Harvester of Asile of Misery of Misery lui Harvester of Asile cos'è lui lo scarti e lo rianimi e fai meno 4 meno 4 fai meno 2 meno 2 a un pezzo fai meno 4 meno 4 a un pezzo e meno 2 a tutto sì sì questo sì certo ma anche di Harvester of Asile no Misery intendeva sbagliato certo questo sì ovvio però che cazzo levi cioè oddio di turno 2 ci sta che qualcosa levia ad agosto si ok ad agosto se esce Griff si può fa Scandos in Timeless con Griff c'è molto di mello di Reanimator basta se esce Grift c'è fai scam non fai Reanimator il Vestor of Misery secondo me è tipo top 3 del set per vari motivi però poi ne parleremo in un altro video Reanimator rischia di fare il giro Repulse non ci fai un cazzo ride it down no questa è un'altra po' boiata è un'altra boiata sefone inset un si gioca keyword the critics ristampa bellissima solo per la bellezza dell'artwork meravigliosa Skull Crack Skull Crack notevole secondo me Skull Crack c'è dei mazzi burn che soffrivano tantissimo delle robe che ora con questo aggettivamente non soffrono più Skull Crack si giocava anche in modern quindi si si Skull Crack è una grande ristampa era mia rara no però non c'era era un comune vabbè si rara vaffanculo eh ok però vabbè guardate che ci sia eccoci qua questa secondo me è la carta più forte in assoluto di tutto il breaking e vabbè la surgical l'esistenza di extraction nullifica automaticamente reanimate non è così vero quasi non lo fai se te sospetti che dall'altra parte ci sia una surgical oddio è instant e costa zero non so ma il discorso è il motivo per cui appunto reanimator crea veramente un un set complicato perché te dici ci metto surgical ok lo può mettere volendo a tutte le parti perché tutte le side la leve a zero ok surgical è 4 serie in tutti i mazzi sempre lo so ma te vuoi fare tutte le side da 11 tutte tutte perché c'è l'animator tutte no no perché c'è l'animator surgical te hai le tozis e le cosilek te fai turno 1 tozis surgical extraction contro chiunque te e gli togli tutto ciò che hanno di forte cioè surgical è la carta che va ovunque non di side ma le poggiano anche 1 e 3 cioè nel senso basta tu ce ne abbia 4 poi tu ce ne abbia 2 di main 2 di side 4 di main 4 di main non è sbagliato 4 di main surgical non è sbagliato magari in mazzi specifici i giochi 4 surgi al di main però in generale te nelle tue 75 devi avere 4 surgi basta non se c'è il legacy però l'animator è tipo 1 e surgical non si vede ho capito ma questo non siamo in legacy manca del non siamo in vintage ragazzi e non c'è force of will ricordatevelo non c'è force of will ciao davidi la mancanza di force of will in un formato come timeless rende determinate carte molto più forti di come sono in legacy ok cioè tu non puoi rispondermi a turno 1 tozis surgical cioè se io sono on the play te sei un combo cioè show and tell in mano io ti faccio nel mio turno perché te non hai ancora giocato tocca a me sono on the play ti faccio terra nera tozis surgical extraction su show and tell te hai perso fine si commandeer vaffanculo dai ma giochi commandeer contro surgical extraction ma come no io ho paura prima o poi arriva commandeer è 3 per 1 però eh commandeer è 3 per 1 l'altro si sente a baiare poti che mi hanno scelato alla porta si poco ma niente va bene va bene comunque surgical per me è anni luce la miglior carta del set ma proprio di tanto 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 questo gruppo 8 vabbè no aspetta c'è mana drain parliamone è meglio surgical se nemmeno è meglio surgical surgical mana drain è una rottura di cazzo gigante ci diceva all'intorno lo sai che arriverà mana drain è una rottura di cazzo ma surgical è peggio surgical ti annulla le strategie a zero è una roba fuori di testa surgical si no ma non sto mettendo le dubbe perché le cose a zero meno male hanno capito che questa cosa qua non è più da fare però guardando se c'è qualcosa altro mi sa che l'arresto sono tutte ristampe ma Villano Swelt non c'era ma fa schifar cazzo vuoi cacare vomitare vuoi di run vuoi di slime no basta finire questa è una carta tipica da commander vuoi di slime oddio mio si ma vuoi di slime è inutilmente land ma counter le trigger è forte l'attivate le trigger se voglio far rompicazzo in timeless faccio tu uno stifle e c'è chi lo fa ancora te non te l'aspetti ma c'è qualcuno stronzo mette uno o due stifle nel mazzo solo nell'evenienza di fare turno uno stifle c'è disallo costa meno esatto ok andiamo qua al tre ora si è parlato delle breaking news adesso arrivano le special guest special guest sono ristampe e nuovi inserimenti qualcuna interessante sono dieci carte non tutte sono interessanti un due tre e questa è una delle mistica arriva su arena finalmente l'abbiamo tanto desiderata ora dateci anche caldra complete e siamo felici questa è molto molto figa manca ursasaga però ho capito tanta arriva tanta arriva 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 ora la vera domanda è quindi martellone toglie il verde perché non giochi più otto equip ma giochi soltanto quattro martelloni e mistica per fecciarli se lo messi se lo messi se lo messi secondo me aumenti la consistency perché ti permette anche di fare dei lacchezzi tattici ho capito ma c'è sorge se te disgraziatamente ti levano il martellone cosa fai? ah lì hai perso sì 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 almeno in quel altro modo c'avevi il piano B ho capito ma un colore in più un colore in più considera che martellone deve giocare a mana confluence che gioca 20 terre ho capito però bisogna capire quanto effettivamente sarà necessario avere due piani invece di uno però per farti surgical ti devono se a me si può giocare tipo una belt una roba del genere una belt e la casti solo con le terre multicolor probabilmente o non la casti affatto perché lo fai con mistica poi bisogna anche vedere anche lì surgical sarà prebannata in historic non lo sappiamo ragazzi non lo sappiamo ancora la mistica grande io ovviamente sono un grande fan io gioco due mazzi in historic ormai gioco maghi e martellone e questa io sarò già pronto per i mirror è il più economico tra maghi e martellone qual è il più economico maghi martellone è solo rare martellone è solo rare non c'è uno non comune no c'è il gatto non comune ristampa le idee con un artwork incredibile desertion disgrace allora canterò la spell piglio io se è creato un artefatto ci sono sto pensando c'è solo un mazzo che può voler questa cosa si torna a parlare di azote scontro va bene il mirror no no il mirror no ci sono muccone o cose è rubianello ok ma vuoi? allora a Zorius si può giocare Lotus a Zorius ha sette mani di terzo se vuoi che mi sembra veramente lenta contro midrange ti conviene fargli le gioie e poi le rubi dopo a me conviene counter e bust counter e bust che cazzo te ne frega ripeti il discorso per la tesi c'è un vero morbid morbid senza nessun motivo altra non comune che era andata tipo a 5 euro maledetti commanderisti siete tutti quanti mi dici te se può essere ristappata mitica special guest una non comune di Innistrad vabbè ma qui perché c'è cosa c'è come si chiama la di Bloodborne di Maria l'artwork è palesemente la di Maria spoiler gigante abbiamo appena detto però vabbè non è la di Maria è proprio lei è proprio identica è la di Maria vabbè comunque su arena c'è è non comune mi faceva molto ridere il fatto che ristampano mitica le special guest perché commander esiste portreise 5 mana va trovato l'infigilante a combattimento a un giocatore stappa ogni creatura che controlli c'è un'altra fase non può attaccare un giocatore che ha già attaccato questo turno questa è proprio una carta da commander proprio specificamente nata da commander giocata solo in commander che questa era nel commander delle caverne di Ixalan no questa l'hanno fatta in commander legends se non sbaglio si se l'hanno fatta in commander legends nel 2020 e l'hanno ristampata nelle caverne di Ixalan commander e mi devi spiegare che cazzo serve in historic e in timeless secondo me niente secondo me l'hanno fatta vorrei vorrei far presente che nel set prima in standard è con 4 che fa di più e se lo parano gli attacchi si è vero perché l'effetto è forte ma se vedete lenta no skip shift ovviamente che shift lo sappiamo mystic snake c'è ok costa uno specifico meno del 3-2 si voleva bene una volta mystic snake ora tom notion tiff ecco notion tiff secondo me è è è forte sì perché in historic orchetti è bannato allora in timeless è meglio orchetti e ci siamo non te ne frega di pescate vuoi punire la pescata dell'altro sti cazzi in historic in control mirror esper magari azorius può splash al nero e diventare esper e piantare le pescate perché notion tiff in flash è gigante è molto più forte di narset ma narset costa comunque tretti da carta sì ma è sorse è vero è bordo di tutto però un turno dopo questo vuole anche questa è una side data contro control sì ma questo vuole anche il nero eh attenzione può valere la pena dozzis di roba figa per fare esper volendo la forza di narset è che comunque ho tre poi per schiarta teni in mano ma se ne narset lo c'è già di me questo è in più ma quanto vuoi impedire all'avversario di pescate dice sempre ok ma già narset vuol dire che l'avversario se la deve prendere con narset invece che con te perché se no li si pianta al matto questo comunque è un 3-1 no non vuol di nulla il body te lo fai un trazorius sì ma è una creatura 3-1 sì sì ma un po' fatte feri se fai questo non peschi pesco io sì perché non ci sono più gli orchetti se no questa beh no t'ho detto in timeless c'è l'orchetti in historic no e in historic questo potrebbe essere un buon sostituto costa vattro costa vattro ma lo gioia in mazzi specifici magari questi tre sono tutti interessanti sono gli ultimi tre bimiri invece di un può essere per ora c'è te sempre c'è zonius e basta posso fare il deserto il deserto spaccaragavan però prima lo fa connettere il deserto spaccaragavan ma prima connette ragavan però è gratis è un bel effetto da da su una terra deserti vedraggio no deserti come archetti poi è una roba da limited ma questo qui deserto ve lo dirà Ben Nights è una è una terra che gratis ti uccide le cose rompe i coglioni soprattutto tipo appunto il notion thief ti fa per attaccare perché comunque c'è qualcosa che vorrei fare e lui bene ok questo è il deterrente della madonna cioè se io ho il deserto in campo e te hai qualcosa e a uno di costituzione non puoi attaccare ma non può essere giocato no no historic e timeless ragazzi in realtà può aver senso tutto ciò che c'ha uno di costituzione rimane bloccato no rimane bloccato attaccavo una volta si ma te vuoi sprecartelo attaccando per la singola volta non so quante carte rimangono in campo abbastanza a lungo con la costituzione bassa da fare board esatto bisogna vedere quanti mazzi si possano permettere la terra in colore fissa pochi però qualcuno si è un ottimo 1x in titano proprio è gratis 1x in titano titano c'ha un sacco di terra in colore del cazzo che ci fa una sega cioè la gente gioca guadagna 2 punti vita a me è già meglio questa di guadagna 2 punti vita è vero che sono immediati 2 punti vita però comunque questo è un bel deterrent interessante sembra interessante pre-smart in vista è una grande fetch è una fetch per basica però è effettivamente l'unico vero modo di fetchare in historic sì sempre per basica però fetch non ce l'hai il farewell passage è è tappato nei primi tour sì è ok nei primi tour è ok è quello il problema e pre-smart in vista se non me in historic ci può andare perché no ci può andare assolutamente ce la butti dentro riducila per ca riducila ti tini il mazzo bandata in historic vista una fetch per basica dagliela almeno per le basiche ah ho state ancora parlando di deserto no comunque vista dai vista ci arriva in historic e se me ci sta da dio e deserto effettivamente immagina 13 deserto potrebbe essere oppressivo però è palloso il fatto che è in colore cioè non è detta la bandina solo perché dici di allora non si giova più talia boh intendo di giova a deserto però eh c'è da vedere nel complesso comunque settone interessantissimo ora io non so se farò una top 10 generica cioè una top 10 di tutte e quattro o la top 10 solo set principale perché di queste praticamente non c'è bisogno di fare la top 10 la top 10 è venuta fuori da quest'analisi evidente perché oggi si parla di una decina di carte eh alcune sono talmente tanto forti abbiamo detto una decina di carte tra quelle menzionate giocabili quindi è come se avessi già fatto la top 10 del set principale c'è il senso di fare una top 10 di craft queste graftatevi tutte quelle forti che abbiamo detto sono forti fine quindi sì la top 10 la farò solo la top 10 la farò del set principale big score quello quello sì quindi vuole fare il raccontino e scrivere le carte forti se qualcuno nei commenti di questo video vuole fare esatto la lista delle carte che noi abbiamo detto si forti si giocheranno in historic in timeless fatelo che fate un ottimo servizio alla gleba bravi rettifica della gleba perché veramente 10 minuti dopo che ho finito di fare la review col pirrone hanno annunciato i pre-ban dell'historic quindi prendete tutto quello che abbiamo appena detto ma togliete force of vigor dagli historic appunto commandeer reanimate e mana drain era ovvio sì tutto quello che abbiamo detto ovviamente vale per il discorso timeless perché queste quattro carte non sono state limitate non sono state bannate quindi sia vigor commandeer reanimate e mana drain sono quattro per in timeless ed è lì che daranno il loro meglio ma in historic almeno ovviamente mana drain era già bannata counters per ce lo aspettavamo reanimate secondo me non era necessario perché c'era tanto tanto hate specialmente perché appunto surgical extraction non è stata bannata in historic force of vigor non ce n'era neanche così tanto bisogno e commandeer effettivamente poteva essere un problema quindi dalla gleba è tutto sperando che non ci siano altre rettifiche da fare prima dell'uscita di questo video spero di no mannaggia la mannaggia mi raccomando fate a modino